venerdì 21 novembre sono appena arrivato ad assisi e ho preso posto sono le 7 22 le 19 22 e ho preso posto nel meraviglioso hotel sole che sta proprio qua soccorso mazzini pieno centro ad assisi ecco la mia stanza la stanza numero 10 e adesso noi gli siamo i bagagli per andare alla segna primo piano sull'autore noi ci vediamo tutte e tutti su www.ematube.com